Sicuramente fare sì che la Calabria possa andare avanti in un processo di crescita continua sullo sviluppo dell'agroalimentare. L'agroalimentare calabrese è un agroalimentare di qualità che non ha nulla da lamentare o comunque non ha nulla in meno rispetto a quello di tutto il resto d'Italia e di conseguenza oggi come oggi l'obiettivo che dobbiamo avere tutti è in un'ottica regionale quello di appoggiare da un lato le associazioni di categoria, dall'altro gli agricoltori ma soprattutto attraverso una regione che sia una regione che sia dalla parte del mondo agricolo e a questo ci aggiungo anche quello del turismo perché comunque l'abbinamento agricoltore e turismo per me è fondamentale per portare avanti determinate tematiche. Magari anche con un assessore regionale all'agricoltura che di fatto manca da cinque anni? Assolutamente sì perché io da ministro in quei 14 mesi mi sono sempre chiesto come mai una regione importante come la Calabria non avesse un assessore all'agricoltura e anche un assessore al turismo. Sono due argomenti, due materie che possono portare business, possono portare nuovi posti di lavoro, possono portare opportunità in Calabria e in passato la politica se l'hai totalmente dimenticati. Come rendere competitiva l'agricoltura calabrese in uno scenario nazionale ed europeo soprattutto? Beh prendere sicuramente in considerazione quelli che sono i prodotti tipici dell'agricoltura calabrese, quindi pensiamo all'olio, pensiamo alla pesca, pensiamo a tantissimi altri settori, pensiamo anche all'allevamento e prenderli e portarli attraverso processi di filiera, attraverso i fondi europei che arrivano e che magari spesso vengono spesi in modo così, attraverso non degli investimenti oculati e far sì che la Calabria non sia semplicemente la punta estrema dell'Europa ma diventi protagonista in Europa. Un commento sul carattere nazionale, ieri la consulta ha bocciato il referendum sulla legge torale, il vostro segretario Salvini ha parlato di vergogna, di furto di democrazia, cosa farete adesso? Adesso vediamo insieme a Salvini, insieme a Calderoli, cerchiamo di capire quali saranno i passi da fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche sotto questo punto di vista mi sembra che ci sia un complotto sempre più alto per dare meno potere ai cittadini, a noi interessa che gli eletti non siano gli eletti decisi dai partiti, decisi nelle segretarie di partito ma siano gli eletti che vengono scelti dal popolo e che rappresentino il popolo, ci sembra che con questa decisione la consulta ci voglia far tornare a anni fa e non al futuro. Grazie, buone l'assessorato all'agricoltura e al turismo. Ottimo, sono molto contento di questa cosa, semplicemente perché come capo dipartimento della Lega per quanto riguarda agricoltura, turismo e made in Italy vuol dire andare a portare in Calabria anche tutto quel know-how e la collaborazione che c'è tra assessori regionali. Se andate a guardare la Lega sta scegliendo l'agricoltura in quasi tutte le regioni dove abbiamo le persone giuste al posto giusto, con un grande rapporto di collaborazione tra assessori si può fare squadra e si può far sì che magari le conoscenze e le competenze che ha qualche assessore regionale in qualche altra regione si possa confrontare e possa portarle in Calabria. Stessa cosa attraverso la Calabria magari possa portare ad altri assessori regionali della Lega in altre regioni possa portare le sue conoscenze. Attraverso il gioco di squadra si riescono a raggiungere i risultati. Se Matteo ha, e come credo e sono convinto, voglia portare a casa questo assessorato vuol dire che il progetto che abbiamo lanciato con quel ministero quando io sono diventato ministro quasi più di un anno fa vuol dire che è un progetto vincente e che è ben visto dal mondo della politica e dal mondo delle associazioni. Fiume 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 Fiume